Preparativi per la nuova edizione Il Grande Fratello tornerà su Canale 5 a Settembre, con Alfonso Signorini ancora una volta alla guida del programma Gli autori sono attualmente impegnati nella selezione del cast, che comprenderà sia VIP che concorrenti sconosciuti, NIP Voci sui prossimi concorrenti Numerose indiscrezioni sui potenziali partecipanti della prossima edizione sono già circolate online Alcuni ex concorrenti sarebbero stati contattati per tornare a varcare la famosa Porta Rossa, ma al momento non ci sono conferme ufficiali da parte degli autori Le notizie definitive sui partecipanti verranno annunciate nelle prossime settimane Il rumor di Amedeo Venza. Nel frattempo, un nuovo gossip ha acceso l'interesse del pubblico Secondo Amedeo Venza, ci sarebbero stati dei dissapori tra un ex vippone del Grande Fratello e Alfonso Signorini La causa di queste tensioni sarebbe legata a un altro ex concorrente del reality Tuttavia, Venza non ha rivelato i nomi dei protagonisti coinvolti in questo pettegolezzo, lasciando i fan in attesa di ulteriori dettagli Attesa per la nuova edizione. Mentre i fan attendono con impazienza il ritorno del Grande Fratello su Canale 5, le speculazioni continuano a crescere Chi saranno i nuovi concorrenti e quali sorprese ci riserverà la nuova edizione? Non resta che aspettare ulteriori aggiornamenti per scoprire cosa accadrà La prossima edizione del Grande Fratello si preannuncia ricca di emozioni e colpi di scena Promettendo di tenere incollati alla televisione milioni di spettatori